FWG Tech impara la tecnologia in tv. Un programma di Gabriele Coppo. Benvenuti ad una nuova puntata di FWG Tech. Oggi avremo un ospite davvero importante, uno scrittore, un writer, ha pubblicato diversi libri, è in collegamento con noi. Riccardo Esposito, benvenuto. Ciao a tutti. Blogger, writer, autore di diversi libri. Lo abbiamo invitato perché i suoi libri sono davvero molto utili, ma soprattutto mi sono piaciuti molto, quindi ho voluto averlo qui in trasmissione con noi. Ovviamente la distanza che ci separa fisica era decisamente lunga da percorrere, quindi abbiamo deciso di fare questo collegamento. Ho a portata di mano uno dei suoi libri, eccolo qui, l'ho letto e riletto, l'ho consumato, si chiama Fare Blogging, il mio metodo per scrivere contenuti vincenti. Una delle cose che Riccardo fa. Anche a Riccardo leggerò delle domande, le abbiamo preparate qui dalla redazione, avendo un ospite di importanza nazionale che ha pubblicato diversi libri, abbiamo voluto scoprire un po' di più sul suo lavoro e su quello che fa. Allora Riccardo ti leggo una domanda che è la seguente e che un po' mi ci ritrovo anch'io, perché dice noi che lavoriamo nel digital facciamo un po' di fatica a rispondere alla domanda che pare più semplice di tutte. Che lavoro fai e di cosa ti occupi? Guarda, che lavoro faccio, di cosa mi occupo? Tendenzialmente io mi occupo di scrittura online e in particolar modo di blogging. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il mio lavoro si basa sostanzialmente sullo scrivere, cioè sul creare delle pagine web dedicate appunto alla soddisfazione di un'esigenza, nel senso che le persone fanno delle ricerche su Google oppure sfogliano il proprio account social come può essere Facebook o Twitter e trovano dei contenuti. Dei contenuti che devono essere scritti in un certo modo, devono essere organizzati in un certo modo. Ed ecco che entra in gioco la mia competenza, nel senso che io oltre a scrivere dei contenuti in grado di soddisfare delle determinate esigenze in termini proprio di qualità del testo, devo anche fare in modo che questi contenuti siano adeguati alla lettura sul web, che è una lettura particolare, nel senso che le persone quando usano un contenuto su web non leggono come se stessero leggendo un romanzo davanti al caminetto, ma hanno una lettura un po' più, come dire, sintetica e cercano comunque di arrivare al nocciolo della questione in un tempo più, come dire, concentrato. E oltre a questo bisogna anche lavorare intorno a quello che sono i motori di ricerca, che appunto definiscono la qualità di una pagina web, anche non solo, ma anche rispetto a quello che è stato scritto all'interno della pagina stessa e di conseguenza tutto questo fa parte del mio lavoro. Quindi quando mi chiedono che lavoro faccio cerco di riassumere questo, che non è facilissimo. Quindi in pratica il problema di spiegare esattamente cosa facciamo noi nel mondo digital è un po' comune a tutti noi colleghi, diciamo così. Se io dovessi spiegare cosa faccio ci metterei davvero tantissimo, quindi di solito uso il termine digital strategist o stratega digitale che sembra quasi un film. Comunque mi occupo di tutto quello che è la comunicazione online per stringere. Dopo ci mettiamo vicino che grazie all'emittente faccio anche questo programma in tv, quindi potrei dire quasi che sono un conduttore televisivo, anche se è più una trasmissione tecnica, la faccio soprattutto per la divulgazione della tecnologia. Allora Riccardo, siamo pronti per la seconda domanda? e te la leggo come facciamo con tutti i nostri ospiti. Allora, su internet spesso pubblichi contenuti che aiutano le persone a fare alcune cose, come ad esempio piccole guide per fare blogging, dove trovare le immagini, spesso anche in maniera gratuita, per il proprio sito, recensioni di strumenti per gli strateghi digitali, eccetera. Come mai lo fai? Beh, perché faccio tutto questo? Perché scrivo questi contenuti? Perché faccio queste recensioni? Perché scrivo piccole guide dedicate al mondo del blogging? Ma per un motivo molto semplice, perché attraverso questo lavoro io riesco a guadagnare. O meglio, sono lontano da quei metodi per cui ti dicono inizia a fare blogging e guadagna 30.000 euro in tre mesi, ma posso dire che attraverso i miei contenuti io riesco ad attirare dei clienti verso di me, riesco ad attirare dei clienti verso quello che faccio e di conseguenza posso, come dire, mettere a disposizione di queste persone le mie competenze, le mie capacità. Quindi più scrivo e più le persone mi trovano, più scrivo contenuti di qualità e più riesco ad attirare persone interessate al mio lavoro verso di me, verso le mie rendering page e di conseguenza riesco a, come dire, portare avanti una partita IVA, che in Italia non è poco, con soddisfazione, con grande, come dire, di sicuro non facciamo i, come dire, non diventiamo ricchi, però riusciamo a vivere decentemente con quello che è una delle professioni dal mio punto di vista più belle, è la scrittura sicuramente un modo per unire la propria passione con quello che è una professione e di conseguenza più scrivo, più scrivo bene e più le persone mi contattano per lavorare con me. Bene, 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 bene. Ovviamente anch'io ho un blog, però è più un blog personale, Gabriele Gobbo.it, dove un po' racconto quello che penso delle cose digitali che succedono, no? E adesso ti farei la prossima domanda che chiede quanto segue. Nell'era digitale come mai hai sentito la necessità di scrivere due libri che parlano proprio di digitale e più specificatamente del mondo blog. Ovviamente fanno parte anche della mia biblioteca personale. Il motivo che ti ha spinto a usare anche la carta in questo mondo digitale? Bene, l'importanza della scrittura, l'importanza dello scrivere due libri oggi, nel momento in cui abbiamo la scrittura digitale dalla nostra parte. Bene, il libro ti posso assicurare, vi posso assicurare che il libro cambia le cose, nel senso che nel momento in cui tu sei un professionista e pubblichi un libro dedicato alla tua professione, c'è un'accoglienza diversa, c'è un modo di vedere il tuo lavoro in modo diverso, nel senso che le persone si fidano di più di te e ovviamente poi comunque moltiplicano anche le occasioni professionali per poter esprimere le tue competenze, nel senso che ti chiamano a presentare il libro, ti conoscono in determinati ambienti dove magari prima non eri noto ma attraverso la pubblicazione del libro riesci a raggiungere degli ambiti diversi. Insomma, la pubblicazione del libro è un po' come per dire ecco, questo è il mio... questo è quello che io so fare, questo è quello che io metto su carta, perché quello che metti su carta poi rimane, nel senso che la carta ha sempre un peso diverso rispetto al digitale, per quanto io poi possa essere un entusiasta del digitale, nel senso che lavoro in questo ambito e mi sento a mio agio in questo ambito, però sono anche molto legato alla carta stampata, poi comunque ho 37 anni, diciamo che non è che sono giovanissimo, quindi conosco bene lo studio sulla carta, la scrittura sulla carta e riconosco che aver scritto un libro, aver scritto due libri poi è un motivo di banto e sicuramente un punto in più per la mia professionalità. Certo, nel tuo lavoro aiuti le aziende a migliorare la loro presenza e la loro identità su internet. Se dovessi dare dei consigli ai nostri telespettatori che spesso sono anche proprietari di piccole aziende, di piccole attività, di piccole società, le micro imprese, quali sono le due cose imprescindibili che i piccoli imprenditori devono assolutamente fare o da avere per essere un po' più digital e aiutare le loro aziende? Cos'è che un imprenditore deve assolutamente avere? Non voglio parlare di strumenti e di tecniche nel senso che tutto questo poi deve essere visto sul posto, nel senso che io non posso improvvisare, non posso dire che bisogna avere per forza un blog, bisogna avere per forza una pagina Facebook e via dicendo. Nel senso che queste sono delle dinamiche che dovrebbero essere valutate sul posto o comunque in base alla situazione. Quello che posso dire che deve avere sempre l'imprenditore è la consapevolezza, la consapevolezza di quello che sta facendo, nel senso che quando decide di investire sul web deve sapere quello che sta facendo, non sta, non si sta rampicando sull'albero della cuccagna, nel senso che non deve fare soldi gratis su internet o guadagnare o trovare clienti gratis da qualche parte, internet è questo posto in cui possiamo fare cose strane, possiamo ottenere dei vantaggi immotivati, inaspettati. In realtà c'è da dire questo, che internet è investimento, c'è da dire che internet è un luogo in cui non si guadagna senza investimento e non si raggiungono dei risultati degni di questo nome senza che cosa? La consapevolezza di quello che si sta facendo, cioè per riuscire a ottenere dei risultati sul web devi conoscere gli strumenti, devi conoscere la fatica che ci vuole per ottenere quei risultati. Ecco, questo è quello che ci vuole secondo me ed è la base che deve essere sempre presente quando un imprenditore decide di investire sul web. Adesso però ti farò scottare un po' la postazione perché parliamo di un argomento ormai finito su tutte le pagine dei giornali, tutti ne parlano, spesso devo dire un po' a sproposito soprattutto i giornali generalisti. Si sente tanto a parlare di dati, di presunti scandali Facebook, di diffusione delle nostre abitudini e di aziende che comprano i nostri dati, che detto tra noi è il business del nuovo millennium ma forse anche di quello scorso perché se utilizziamo un servizio online che può essere Gmail come Facebook ed è sempre gratuito, è chiaro che per contropartita le nostre abitudini e i nostri dati servono a vendere pubblicità in maniera che queste aziende guadagnino e non entrano nel merito perché abbiamo un'altra puntata in serbo su questo. Che opinione hai tu su tutto questo buzz e di questo argomento dei dati che girano forse rubati forse no? Non siamo forse noi stessi i primi che violano la nostra stessa privacy ogni qualvolta pubblichiamo qualcosa sui social network? I primi a dire quello che facciamo e chi siamo siamo noi. Tu cosa ne pensi? Devo dire in verità rispetto al discorso dei dati Facebook ti sembrò forse un po' superficiale su questo punto, ti sembrò un po' non so come dire bucorico forse su questo aspetto però non è che mi interessi più di tanto. Ripeto, forse sbaglio nel senso che dovrei interessarmi di più a questa faccenda però io sono anche consapevole di questo che comunque avviene cioè io non posso lamentarmi costantemente del discorso privacy sui social private hanno venduto hanno preso le mie informazioni forse ripeto ancora una volta perché non voglio sembrare presuntuoso cioè non voglio sembrare uno che ha già diciamo la risposta a un qualcosa però io non ci posso fare niente so che nel momento in cui entriamo su Facebook dobbiamo essere disposti a lasciare una parte dei nostri dati a qualcuno ora è chiaro che comunque Facebook non dovrebbe comportarsi in questo modo, dovrebbe esserci più trasparenza su questi punti e soprattutto una correttezza maggiore però in ogni caso avviene sarà che non li dovrebbero vendere a queste aziende, li dovrebbero usare in altro modo in ogni caso io cerco di comunque comunicare il meno possibile di quello che non mi viene chiesto rispetto a quelli che sono i miei dati poi staremo a vedere insomma Bene Riccardo, adesso passiamo ad un altro argomento abbastanza scottante perché ti abbiamo qui sei un grande conosciutore della rete e del mondo digitale quindi cogliamo l'occasione anche per andare su un argomento che in realtà abbiamo già trattato con un altro esperto nazionale, uno dei, chiamiamolo così, pupili di mentana allora, secondo te il proliferare delle bufale e delle notizie esagerate per aumentare il clickbait sono causate dai social media oppure siamo noi esseri umani a essere un po' troppo bisognosi di emozioni forti? è sempre troppo pigri per verificare la veridicità della notizia? forse è un po' colpa nostra? rispetto alla necessità di noi esseri umani di avere bisogno appunto di emozioni forti questo è molto importante nel senso che i social diventano a questo punto diventano una sorta di arena diventano un luogo in cui le persone mettono in campo le proprie emozioni i propri dispiacere, le proprie gioie ma anche frustrazioni e rabbia l'idea è quello che attraverso i social io possa interfacciarmi con una persona che poi deve diventare il mio sfogo personale poi ci sono degli organi tipo alcuni tipi di stampa o blogging chiamiamola così che in qualche modo cavalcano ronda e pubblicano notizie false oppure con titoli clickbaiting per far credere qualcosa a qualcuno questo è un argomento che ovviamente non incontro in mio favore nel senso che la comunicazione dovrebbe essere sempre informativa cioè io devo sempre comunicare l'informazione giusta non posso prendere in giro le persone non posso neanche aizzare le persone verso quello che è un argomento delicato nel senso che ne abbiamo fin troppi di personaggi che in qualche modo aizzano e mescolano e agitano la rabbia delle persone per ottenere dei risultati che poi non mancano perché le emozioni forti funzionano sempre le persone sono preda delle emozioni e se c'è qualcuno che sa gestire i mezzi di comunicazione ad arte questo qualcuno può influenzare in buona misura l'atteggiamento delle persone verso determinati argomenti di conseguenza io penso questo che i social siano un territorio ricco, fruttuoso nel senso che possono alimentare possono permettere alle persone di sguazzare in quelle che sono quello che è il brodo primordiale delle proprie emozioni perché mancano anche tanti altri codici comunicativi ad esempio l'espressione del viso, il tono di voce, la gestualità sono tutti elementi che in qualche modo possono far percepire a chi mi sta di fronte che sto scherzando, che sto facendo sul serio che non ho voglia di scherzare o che magari ho voglia di essere preso sul serio mentre invece sui social diventa tutto uno scherzo una rabbia, si passa da amici, tutti cuoricini, baci tutti sono amici, tutti sono colleghi a situazioni in cui poi si ammazzerebbero nei commenti io quello che consiglio è questo andare con i piedi di piombo nel senso che siamo in un luogo pubblico non dobbiamo per forza esternare tutte le nostre emozioni dobbiamo riflettere prima di pubblicare e dobbiamo riflettere ancora di più prima di accusare, incorpare e soprattutto insultare qualcuno perché poi fioccano le denunce e questi erano un po' gli argomenti più piccanti chiamiamoli così adesso veniamo un po' più sulla tua persona su di te tieni spesso dei talk e ti invitano spesso ad eventi a parlare in pubblico quali sono le domande che ti fanno più spesso a questi eventi quando parli in pubblico? rispetto alle mie apparizioni pubbliche diciamo sì spesso sono in giro a tenere lezioni appunto sul mondo del blogging e qual è una delle domande che mi fanno spesso? sicuramente c'è grande diciamo andiamo sull'aspetto tecnico è sicuramente tra le grandi domande che spesso mi fanno è quella relativa a tag e categorie del blog come si organizzano? questo è un grande dubbio questo è un dubbio ammetico che spesso viene fuori ecco se c'è una domanda che spesso mi fanno è questo come si organizzano tag e categorie? io di solito per non essere poi estremamente provisto perché ci vorrebbe una lezione intera solo per spiegare tag e categorie io di solito sintetizzo in questo modo siate brevi o meglio siate sintetici un articolo una categoria due o tre tag che già esistono non creare tag ex novo se quei tag non servono non serviranno comunque in futuro per ospitare nuovi articoli non mettere un articolo in due categorie se non è strettamente necessario nel senso che possiamo definire come una regola abbastanza pacifica il fatto che ci sia un articolo in una categoria e soprattutto non confondere i tag con i metatag nel senso che non è detto che io più tag inserisco in un articolo più ci siano occasioni per posizionare e per indicizzare magari un articolo non so cosa passi nella testa di chi mette tutti questi tag in ogni caso aumentare di smisura il numero dei tag può causare dei problemi ecco quindi economia delle risorse una categoria due o tre tag e anche questo è molto interessante ed aiuta a capire il mondo digitale adesso ti voglio fare un'ultima domanda è a mo' di battuta un po' che rientra in pieno e forse qualche collega spero ci riederà sopra non vogliatemi ma la domanda è una battuta allora Riccardo la SEO è morta viva la SEO? sì la SEO è morta no diciamo che la SEO si trasforma ecco io non voglio cadere in questa diatriba storica se la SEO è morta o non è morta di sicuro non morirà oggi di sicuro non morirà domani e sicuramente si trasformerà quello che io posso dire e con questo diciamo voglio dare anche un saluto poi a tutti gli amici SEO è che sicuramente ci sarà sempre una specializzazione maggiore cioè sarà sempre minore il numero di persone che potrà dedicarsi alla SEO senza un'adeguata competenza e conoscenza di tutto quello che si fa a proposito a proposito della SEO ecco e di conseguenza io se posso dare un consiglio è quello di studiare studiare e studiare vedi? chi volesse maggiori informazioni su di te sul tuo lavoro sui tuoi libri sui tuoi tutorial comunque dove può trovarti e come può interagire con te per chi vuole maggiori informazioni di me basta semplicemente seguire il blog My Social Web c'è una pagina Facebook c'è un account Twitter ci sono gli aggiornamenti che si possono seguire via desktop quello che vi posso dire è semplicemente leggere i miei articoli condividere e se si vuole comprare il libro si può comprare il libro anche se ci sono tante risorse gratuite che si possono scaricare andando nella home page di My Social Web ovvero www.mysocialweb.it e la nostra prima puntata con l'ospite in collegamento remoto da remoto si conclude ringraziamo Riccardo Esposito uno dei più importanti diciamo così di settore blogger writer ha scritto più di un libro che ovviamente fanno parte della mia biblioteca personale grazie mille Riccardo ciao ragazzi a presto per oggi è davvero tutto seguiteci sui siti internet e sui social network della tv ed caffè tv24 fwg ci seguite se volete sul podcast questa puntata sarà quindi ritrasmessa la potrete vedere anche voi da remoto grazie a tutti da Gabriele Gobbo è davvero tutto alla prossima puntata ciao a tutti fwg tech impara la tecnologia in tv un programma di Gabriele Gobbo ciao a tutti a tutti Grazie per la visione!